Senta, senta, senta! Senta, senta! No, vabbè, no. Donna Piglia a scappatietta. Donna Farietta a Patergina. A mattina di Pasqua. Ci vieni a lavare i piedi a Paterci Pietro. A mattina di Pasqua? A mattina di Pasqua. O io giovedì o a mattina di Pasqua? A mattina di Pasqua. Perché lavare l'onda? C'è che appa un'altra due che ci vuole lavare prima. Ah, sì. Quello, non quello. Poi ci prende. E poi lavare la piazza. I piedi? Ci lavare la piazza. Ci lavare la piazza. E la donna Marietta. Ah, poi ci lavare due piazza e le lavare quattro. Donna Marietta piazza, 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 donna piglia dice, no, vieni io prima. No, dice, vieni io prima. E ci metterò uno che la piazza e due da una piazza. E che non lo faccio? Uno? Invece uno a uno. E la parola come facciamo la lavare? Vieni bene. Magari, se pescate magari in radio. Donna Marietta dopo che ti ho fatto lavare uno piazza ci si manchiava da calare. Non ti ho fatto vedere perché mi ha sentito... No, già passato uno. No, io sono due. No, io sono due. No, io sono due. E poi che fai non ci sono due? Guardi, se finisco di lavare i piedi, non mi viene raccomagnando. Magari. Non mi viene raccomagnando la macchina. Certo, che bello colite. Non mi ha salto. Non mi ha salto. Dai, non mi ha detto no. Dice, stavolta vieni io, stamattina piazza che ci sentite avanti. Ma hai pensi di che volete appare? Ma hai pensi che prima ha detto? Che fici? Cia ce le manche sa contegno avanti? Avanti ci sentiteva e c'è stato avanti. Ti piccanozza? Davide, dai viene da viene c'è potuto po' di capite. C'è bettato. C'è potuto po' di capite? ma non ti so se ti ricorda quando la Maria Maria si avessi buttato il topo di capeggio allora non sei una femmina o una cazzina una cazzina, una cazzina, una puttana ma che cosa dici? ma è una pazzoletta ma è un bravo ma è una pazzoletta noi da cittadini ma è un cervello pericoso ma è un santo che ti ricorda non ci shall lì lo sape che ci pareva, non ci prende come si chiama? in serio?